Allora, io credo di essere stata abbastanza brava a sfilare, vorrei essere ripescata più che altro per divertirmi, non per vincere più che altro perché a me piace molto fare queste sfilate e... Quindici secondi, ok, ok, scopriremo se è stata convincente. Se vuoi ripescare questo talento, clicca ora mi piace al posto originale del video oppure condividilo. Grazie.